un pacchettino coccinelloso una bustina di guardate un po di giulia gemma me lo sono scritto qui così in modo da non perdere pezzi e l'hanno anche sigillata con la cera lacca guardate un po sapete che prima le lettere non c'era l'adesivo sulle buste quindi praticamente si usava far sciogliere far cadere della cera fusa per chiudere le lettere e si metteva un timbro un punzone cioè praticamente il punzone è un timbro senza l'inchiostro che andava a fare l'incisione nella cera e così si dava il sigillo alle lettere e chi la riceveva sapeva se era stata già aperta perché il sigillo poi si rompeva e quindi era un modo per tenere a bada gli impiccioni allora ciao barbara e lara mi chiamo gemma e giulia gemma a noi ci chiamiamo gemma giulia gemma sei anni e io ne ho nove siete le mie youtube e preferite questa lettera ve l'ho consegnata di persona al tuo incontro il 5 gennaio a cinecita world giungo io e io 35 l'ora la mia preferita è la cheerleader della serie under wraps si è carinissima noi crediamo che voi siete dei youtuber che insegnano molte regole ai bambini che vedono il vostro canale educativo grazie in molto più ecco vedete però vedete anche voi ci aiutate perché grazie alla vostra letterina io ho potuto parlare della ceralacca se non voi non aveste messo mai la ceralacca sulla vostra letterina io non l'avrei potuto fare quindi ci aiutiamo a vicenda possiamo essere salutati da alice l'olino alice non so dove sia invece l'olino ti saluta molto volentieri ciao baci gemma e giulia qui c'è una alicina con un sacco di u la solita svampita qua se siete uniche grazie e qui c'è la cauboina poi quella parte di gemma giulia per barbara e lara è fatta da gemma mi chiamo giulia gemma o sei anni o nove anni che carine che siete bellissima e qua non è finita perché ci sono una marea di cose mamma mia è pienissimo allora vediamo qui c'è un altro bigliettino lolina sei unica per venuti nel mio canale youtube qui c'è un mobiletto bello importato che bello un armadietto questo per la scuola lolina per te e vai ce lo metto subito quando si tratta di prendere cose poi c'è un minion c'è anche il bigliettino che dice che è per punk boy piacerà molto punk boy questo mi farà ciao chiaro poi qua c'è una scatolina per le storie lol che bella con lo specchio ciao poi qui c'è un pacchettino morbido un pupazzino un pupazzino gommosino strano sai cosa sembra è viola se era nero se fosse stato nero sarebbe stato un nerino del buio che fa parte del film di totoro qui c'è un colettino qui ci sono altre belle cosine grazie che non avete messo lo scotch grazie ci vedete quanto ci metto un attimo faccio più e apro o questa va diretta a masterlo al sicuro e qualche altro c'è è questa per chi sarà non ho letto per chi è ma guardate un po per alice ed è una mela e poi qui c'è un altro pacchettino piccolino piccolino con dentro un pisla e questo sapete cos'è è l'asciugatore eccolo ti aiuterà per le unghie questo lo conosco ma grazie questo è un asciugasmalto ma che bella cosa spettacolo si mette la mano dentro quando si sentite il rumore è tipo un ventilatore che asciuga lo smalto grazie che io lo cambio molto spesso io non faccio la ricostruzione o altre cose ho le unghie mie perché ho le unghie durissime e però a volte vedo che è un po sbeccato lo cambio prima di fare video in modo che ho le manine ordinate e curate grazie cucciolette era una busta regalo veramente bellissima bene se questo video vi è piaciuto mettete il like col pollicino quello in su e poi dopo iscrivetevi anche questo bellissimo canale perché sul logo c'è lo sfondo raccobaleno come me e soprattutto e qui c'è il bollino quindi questo poi c'è quell'altro del canale di barbara e qui sopra vi metto qualcosina da vedere dopo ho detto bene barbara stella ti sarà bravissima bene adesso la mia cibo subito scusami perché perché l'ho detto bene quindi mi merita qualcosa stella no niente niente noi già mangiato tutte le fini delle barrette ma non suona più le mangiate tutte erano buonissime basta allora per un po basta ma è una gioia ma se le mangiate tutte ti pare ciao ragazzi un bacio a tutti quanti